Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Dante e oggi continueremo God of War Bene, partiamo subito a vedere... uh, carino Ah, benissimo, è partito da solo Io poi avevo potenziato un paio di cosette ma non stiamo ad indugiare troppo oltre e facciamo... andiamo avanti Allora, ho bisogno di vita? Sì In maniera estrema, ecco, se vedete in basso lì assi... ui, che c'è? Ok, si parte subito col botto qua Eh, adesso vi faccio un po' vedere qualche nuovo... urcomondo Ok Vale Eccolo qua Un altro bellissimo potere Allora, altra gente Eccolo qua Oh la la Allora, c'è ancora qualcuno? Sì Un po' sopra Ok Fatto Come sempre figlio mio, ho fatto tutto io Come sempre Allora Porco mondo Va bene ragazzi, ho appena trovato dei nuovi vestiti Ho preso delle nuove abilità Che uno è... ah, li chiamiamo l'ascia Ovviamente Che poi... uno è nella corsa Quindi quando corri per mia R1 e fai questo Poi ci sono vari attacchi che sono lì, come vedete in basso Che è con la R2 E col cerchio, che non mi ricordo cos'è Però lo scopriremo più avanti insieme Allora Vediamo Eh, madonna Allora, di qua Per di... uh, un altro affare Ah Che l'avevo pure vista prima Pensate un po' Ah, madonna Quanti roba di veleno Eh, però io Voglio andare di qua Uh Uh Ok, di là c'era solo un forsiere Quindi andiamo di qua Allora, di qua Mamma mia Quante zone di veleno Ci saranno un botto di nemici adesso qui Eh Beh, lo sapevo che dovevo combatterla qua così Madonna mia Ahia Bella Bella, madonna Oh, madonna mia Uh, cosa mi ha dato? Buono Ok 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 Allora, per di qua Qua c'è della vita Quindi la prendiamo Di là a sinistra cosa c'è? Mi dice di andare a sinistra Quindi io vado a destra Giustamente Perché ci sarà qualcosina E' bello avere la La bussola Diciamo Cos'è sta roba qua? Ci serve qualcosa per passare Ah, quindi non possiamo ancora Ah, saranno zone poi Non secondarie Ma Di secondo livello Perché Le posterò a sbloccare Solo dopo che ho un Determinato oggetto Ho sbagliato, mira Ok Allora, niente Uh, di qua c'è un'altra strada No C'è questo però Cos'è questo? Sempre con un altro oggetto Allora, niente Proseguiamo E' molto lineare God of War Me lo ricordavo proprio così Infatti mi sembrava strano Che ci fosse Solo la Cioè, che ci fosse L'open world Non penso Perché Lei era più importante Cosa? Nel senso Che ho passato più tempo io con lei Tu eri sempre a caccia Ti conviene chiudere la bocca Aia Uh, gli ha toccato un tasto dolente Uh, che male Non avrei dovuto Sta facendo sto qua Hai ancora molto da imparare Eh Gli ha detto una cosa abbastanza Uh, quello è tosto Vediamo un po', vediamo Ah, non posso Come non posso? Dove devo andare? Io voglio andare qui Uh Ah 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 no Ah sì Invece Eh Aia Aia Ok Madonna il fuoco quanto brucia Quanto dura Stavo per dire quanto brucia Uh un nuovo potere Buono così lo teniamo Teniamo in considerazione Premo questo anche Uh un'altra spalliera Andiamo a vederla subito Mmm Mi aumenta la ricarica Ma mi diminuisce forza e coso No niente Non la voglio Mi dispiace ma Preferisco la mia Ok ragazzi ho messo un nuovo potere Che penso sia questo Eccolo qua Che bello che è E poi in realtà avevo anche questa abilità qua Bellissimo Mi piace un sacco Poi non so cosa sia Cerchio Ah mi aiuta a recuperare la vita Ok ok Aspettiamo poi che si Rigenerino quegli affari lì E speriamo di non incontrare gente troppo forte Comunque è molto comoda questa cosa Oh mio dio Ancora Uh Aia Oh Grandissimo ragazzo Veramente bravo sto qua Ancora Vabbè dai Facciamoli fuori Ah c'è pure lui C'è Bene Ok Ok Eh lo so Lo so Lo so Niente muoio raga Non è vero Non è vero Non sto morendo Mannaggia me Che ho utilizzato il potere Uh pietre Mamma mia Qua mi ha fregato Uila Ok Poi penso anche a te Mostricciattolo Prima mi libero dai piccoletti Me ne sono liberato Va bene Ah 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 Ok allora aspettiamo un po' Fatti sotto dai Ho sbagliato Ok vedi 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 Lo sapevo che ne aveva tre Uh vai così Oh che dolore Uh bella così Via Ok sono sempre le stesse Mancato Eh porco Giuda No Uh che è questo Questa qua viola Uh oggetto leggendario materiale che Unisce la furia del fuoco Alla tempesta del ghiaccio Si genera con le grandi battaglie Si usa per potenziare il leviatano Bellissimo Uh un'altra Magietto raro incantesimi Un incantesimo che aumenta la forza E runico di tre Uh Buonissimo Molto contento di questa cosa qua Mi serve Uh un altro affare Bello Bello Ah no niente Un altro Buonissimo Così posso potenziare lui Cosa c'è là Che io vedo i pallini Vedo Vabbè Andiamo avanti Dove dovevamo andare Olè Oh la madonna Base della montagna Oh Bella Già Si ma noi dobbiamo andare sulla cima La madonna Quanto alto Qualcosa qui Niente Ogni tanto mette via l'ascia Non capisco il motivo Ah qua bisognerà avere qualcosa di fuoco Tipo Giusto Però aspettate un secondo Ok No niente Non ho trovato nient'altro Quindi andremo avanti Andiamo avanti Ehi Cos'è quella nebbia lì Uh Una faccia È crono No Non è crono Non può essere crono Siamo nel regno degli dei Nordici Non reni più che altro Quindi Non ci dovrebbero essere i titani qua Fermati ragazzo Questo Cos'è Cerchiamo un'altra strada La strega Magari fosse qui Forse potrebbe aiutarci La mia magia è inefficace Contro l'alito nero E non c'è modo di aggirarlo E tutto questo grazie a Odino Che ci fai qui? Mi assicuro che arriviate Sani e Santi Eh Stati c'è qua ovunque Ero impegnata a salvare il mio amico Te lo ricordi? L'alito nero è una magia così malvagia Che neanche io riesco a fugarla Solo la pura luce di Elfheim È tanto forte È da aprire un barco La strada è lunga È importante che proseguiate Importantissimo Seguite Perché ci aiuti? Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta Forse Aiutare voi è un modo per rimediare una vita di sbagli O forse voi mi piacete Anche se abbiamo ferito il tuo amico? Anche se avete ferito il mio amico, sì Dove dobbiamo andare? Eh, buona la ragazza E non regna Al di là del posto Eh, Kratos non piace Strada per le montagne Ok, abbiamo finito questa Tu vieni con noi? Solo per un po' Solo per un po' Come solo per un po' Ah, ok, lei, sì Non posso correre un po' più? No, non posso correre un po' di più Quindi, qua? Useremo questo Greida Quindi, da qua Eh, ma torniamo giù, torniamo così No A Che? Cosa ho visto? Eh beh, sì È laggiù Di tirre al centro del lago Da qui si arriva fino ad Alpine Fortunatamente non è più sottato Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa È comparso dal nulla Poco dopo Thor attaccò E la loro battaglia scosse tutti i regni Ah, parla del serpente Alla fine Alla fine non prevalse nessuno E Thor tornò da Udino a mani vuote Il serpente rase E divenne così grande da cingere tutto Midgard Visto? L'avevo detto Da quel giorno si odiano Sono destinati a uccidersi durante Ragnar Tu credi nel Ragnar? Vorrei non crederci, sai? Ok Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo Davvero? Sta esagerando Sono bravo con le lingue Anche con quelle che non conosco Ma quando parla lui Non capisco niente Nessuno può capirlo Parla una lingua morta Oh Eh minchia Chissà quanto è vecchio quell'uomo Quel serpente Dai, devo andare io avanti? Ok E devo fare io la sociale Che parla di altro Va bene Ok Allora Eh lei oramai trova le cose Ok sì Giustamente Uh Uh Fregata Quindi Senti ciccioballo Quindi Non posso fare un cavolo Eh Te lo dice uno che ne sa Ah Siamo tornati al ponte Secondo me Incontro i nostri cari e vecchi fratelli riuniti Questo? Ah Non posso Se mi avvicino a loro Cammino Corro lento Invece no Ok Il serpente Mio dio Bello che è però Guardalo Guardalo Mazza che faccia che c'è È incuriosito Da Da noi Ciccioballo Ah aspetta Dobbiamo tenere d'occhio Anche il cielo Perché magari c'è Cosa c'hai te? Ok Va bene Scusa A destra Uh È vero Aspetta lì Mentre risveglio la luce Ah ecco appunto Che facciamo esattamente Lo sapevo Ripariamo le cose Inizia a sollevare quell'asse Riallinea il ponte Ok Facciamo questo E là E là Ora riallinea la ruota sul binario Ah Scusate Cosa? Ah devo Ah devo Porco Giuda Eh cavolo Quindi Sì Mi piace che loro parlano Mentre io Faccio tutto il lavoro sporco Cosa? La piaga dei non morti? Che siamo arrivati a Dark Soul? Ok Segui la strega Cosa? Il ragazzino si preoccupa Ma mi sa che non lo sa Si vede che non lo sa proprio Che suo padre è un dio E lui pure È un semi dio il figlio Anche se Si crato Se è un dio Il ragazzino è un semi dio Ah Ecco come si arriva Bene bene Beh non c'era tanto da Da stupirsi Visto che Ok Il suo potere è esaurito Qualche scintilla di magia era rimasta Ma noi le abbiamo usate Ah Quindi adesso Adesso glielo dona No Ah Gli cambia la corda Che figata Ok così Ce l'abbiamo anche noi Giustamente Non mi sorprende Tanto come cosa Cioè c'era da aspettarselo Ci proverò Ma sono state prese misure Ma non c'è neanche il tipo Perché Agli dei non importa di me No Quindi Devo aprire Eh Però questo qua è Madonna Va bene ragazzi Ragazzi io concludo qui il video Lasciate un commento e condividete se vi è piaciuto E noi ci vediamo prossimamente con un altro video Ciao a tutti